Benvenuti su Gossip Mania TV. Grande fratello scandalo continuo, Monia Laferrera contro Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi sotto con Beatrice Luzzi. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Contrariamente alle previsioni, i partecipanti all'ultima edizione del Grande Fratello continuano a catturare l'attenzione del pubblico, dimostrando che le dinamiche nate nella casa non sono affatto concluse. Recentemente, una nuova faida sembra essere scoppiata tra due dei concorrenti più noti dell'edizione, coinvolgendo anche una terza persona meno in vista. Ma cosa sarà successo per creare una tale spaccatura tra di loro? Dopo aver celebrato il suo compleanno a Ibiza con l'ex fidanzato Alessio Falsone, Anita Olivieri ha organizzato un'altra festa a Roma, invitando molti amici del Grande Fratello, tra cui Fiordaliso, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Greta Rossetti, Sergio Dottavi, Marco Maddaloni, Ciro Petrone e Angelica Baraldi. Tuttavia, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato un retroscena interessante sugli invitati, durante il compleanno di Anita, pare che lei abbia messo sulla bilancia Massimiliano Varrese e Monia Laferrera. Ha contattato Monia dicendole che non poteva invitarla perché aveva invitato Massimiliano. Poche ore fa, Monia Laferrera ha confermato la versione di Venza con un video sui social, ciao ragazzi. Uscita dal GF, ho ripreso in mano la mia vita reale a 360 gradi, dedicandomi a lavoro, famiglia e amore. Non ho mai creato falsi rapporti di amicizia, né all'interno né all'esterno della casa. Quello che ha detto Alessandro Rossica è la verità. Non cerco pubblicità attraverso altre persone e preferisco circondarmi di persone sincere. I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello sembrano generare più interesse fuori dalla casa che durante la loro permanenza. Il doppio compleanno di Anita Olivieri, festeggiato prima a Ibiza e poi a Roma, ha sollevato polemiche per il mancato invito di Monia Laferrera. Oltre a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, assenti per la fine della loro amicizia con Anita, il mancato invito di Monia ha fatto molto discutere. Secondo Alessandro Rossica, Massimiliano Varrese avrebbe impedito l'invito di Monia e del suo compagno, Josh Rossetti, fratello di Greta, a causa di attriti personali. Monia Laferrera ha confermato le indiscrezioni con un video su Instagram, affermando di essersi concentrata sulla sua vita reale e di non essere interessata ai social o alla televisione. Ha ribadito che non ha mai cercato di costruire falsi rapporti di amicizia né dentro né fuori dalla casa del grande fratello. Ha sottolineato l'importanza di circondarsi di persone sincere e ha chiuso con una frecciata i diretti interessati, invitando a parlare meno alle spalle degli altri. L'interesse per i concorrenti del grande fratello 2023-2024 non sembra svanire, anzi, le dinamiche post-show continuano a suscitare curiosità e discussioni. Il compleanno di Anita Olivieri e il mancato invito di Monia Laferrera sono solo l'ultimo esempio di come le relazioni nate nella casa possano evolversi e trasformarsi anche fuori dal contesto del reality. Con le nuove faide e i vecchi rancori, i protagonisti del grande fratello continuano a far parlare di sé, mantenendo viva l'attenzione del pubblico. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.